ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie game play ita oggi siamo su mortuari dei mortuari assistant premetto faccio un piccolo disclaimer questo gioco potrebbe urtare alcuni di voi perché noi siamo degli assistenti in una casa mortuaria e il gioco si basa ovviamente sul sovrannaturale e sui jumpscare su riti demoniaci insomma dovremmo diciamo compiere dei riti insomma saremo un po perseguitati da spiriti ma al contempo dovremo anche svolgere il nostro lavoro cioè preparare le salme i corpi i cadaveri quindi mi ha lasciato un po diciamo interdetto mentre giocavo la prima parte dell'avventura il gioco costa 21 euro 20 e 99 su steam dovrebbe durare una decina d'ore è un investigativo un horror un simulatore e è un po particolare infatti ero indeciso se farlo o meno ma va bene noi abbiamo un inventario premendo il tab accediamo invece con il tasto spazio poi abbiamo una cartelletta che ci ricorda le cose da fare qui abbiamo varie cose lei ha tutta una storia all'inizio si incontra in una tavola calda con la nonna lì dice ho preso il lavoro ma no ma non dovresti però siamo orgogliosi di te e inizia a lavorare abbiamo fatto la prima diciamo imbalsamazione e alla fine siamo tornati a casa stavamo guardando la televisione vedete ogni oggetto è interagibile ci hanno chiamato che hanno ricevuto tre corpi all'obitorio quindi noi dobbiamo andare graficamente è carino è tutto praticamente interagibile e in sintesi vabbè noi abbiamo preso le chiavi e adesso andiamo andiamo non so dove ok dovremmo prendere la macchina e andare all'obitorio ovviamente il gioco che vedremo ora è solo indicativo perché il gioco è ricco di jumpscare quindi se vi affascina questa atmosfera un po così è gioco sicuramente che fa per voi questo è il luogo un po vampire un po british non lo so il gioco non è in italiano ok dobbiamo andare sul retro e iniziare te spettacolo abbiamo le cartelle perché quando poi ne completeremo una dovremmo consegnare oddio sta suonando il telefono oddio c'è qualcuno fuori davvero ok di piacere velocemente troppo caricoloso ok stare concentrata ti aiuterà ok c'è c'è qualcuno fuori che è andato via ma il gioco tra l'altro non l'avevo neanche sentito perché come magari alcuni di voi sanno la doppia cuffia quindi tante volte quei umori piccolini e non li sento in sintesi a questo rebecca una chiave due chiavi ok perfetto allora il gioco è ricco di piccoli particolari che vi vengono mostrati sin dall'inizio ombre che formano volutamente delle cose che vedete voi le interpretate persone che sembrano esserci alla finestra e che poi non ci sono e vi dico che non è non è una gran cosa il fatto che io sia qui a lavorare di notte perché la prima missione ve la fate di giorno quindi insomma di cose allora cliccando col destro potete usare la chiave e di là c'è la vecchia chiave stai molto attento che ok questo è il tavolo ascolta attentamente la cosa è altamente non professionale così tratti nuovi assunti non penso e possono non devi credermi ma devi seguire fino anche se troppo tardi in un'unico modo di salvare a te stessa per bandire il demone ho registrato un numero di cassette per istruirti in quello che dobbiamo fare non puoi riferirsi al telefono non può essere manipolato quindi ascolta i nastri e impara il nome del demone denomone e brucialo correttamente ok le cose più importanti sono nell'armadio the cabinet e qual è il cabinet cioè praticamente lui ci ha assunto e poi ci ha mandato qui e dicendoci c'è un demone insomma c'è sta succedendo delle cose il cabinet questo è il nostro no è il suo beige beh posso prenderlo no e il mondo veramente bisogna che avete la botola fuori clina e il basso clina è un sapone e avevi detto di averne altro fuori ho preso una chiave ma non posso prendere tutta roba che non posso prendere qua abbiamo il nostro beige e non me lo fa prendere no ok questo è il forno e qua sono i corpi quindi quindi iniziamo ad andare a vedere sulla nostra cassetta se possiamo ascoltare qualcosa no detto tutto quello che ti servirà è nel cabinet boh non lo so è molto molto strana come cosa beh potremmo iniziare a non ho il clipboard il clipboard è qui ok e veniamo guidati in questo modo quello che dobbiamo fare prendi il corpo dal cold storage ispezione al corpo ok e questo è la fase che all'inizio ci viene fatta molto easy ma che adesso incombe su di noi in modo un po' più pesante perché non siamo più da soli c'è un'esperienza di jumpscare dietro l'angolo iniziamo con questo dobbiamo trascinare fuori il corpo andare sotto con questo ho detto sfida molto il buon gusto questo gioco secondo me parere mio poi bisogna essere bisogna vedere quanto quanto ognuno è bacchettone in certe cose però è un po' impressionato perché mi ha fatto vedere delle tecniche all'inizio proprio in modo in cui sistemano il corpo che non conoscevo non sapevo e sono parti della vita con cui comunque ognuno in qualche modo ha a che fare e questo mi urta un po' insomma comunque posizioniamo il corpo qui ora dobbiamo andare a fare l'esame di quello che è la spalla vedere se ha dei segni possiamo andare a vedere il braccio dobbiamo vedere le due braccia la luce allora non mi sono spaventato ma non è venuta la pelle d'oca per un attimo vabbè ho annotato questo vediamo anche la gamba ho un segno anche questo poi fosse in italiano sarebbe magari un po' più I'm afraid of a ghost ho sbloccato l'obiettivo che cazzata ok una volta che abbiamo fatto questo ci manca la spalla non mi sembra esserci niente guardiamo la testa e poi non mi pare ci sia niente quindi possiamo andare a selezionare nel computer il nome Eric Cook 51 anni sulla testa non c'è niente sul braccio destro questo braccio sinistro quest'altro ho una contusione sulla gamba destra e sulla gamba sinistra niente submit ok abbiamo mandato in stampa il foglio cioè è una cura in questi piccoli particolari che a me piace tantissimo abbiamo messo nell'inventare possiamo tenere solo due oggetti grossi quindi io adesso andrei se me lo concede il gioco e ora si va a fare l'imbalsamazione allora allora il fatto quando vi ho parlato di un gioco che potrebbe votare molti di voi ve lo dicevo perché quello che stiamo per andare a vedere potrebbe essere una cosa per tutti praticamente si va a fissare la mandibola in modo che non si apra poi io non so se effettivamente queste cose le fanno o meno perché non me ne intendo però è abbastanza impressionante ok una labbra imbloccata ora andranno fermati gli occhi dobbiamo prendere gli eye caps che non so dove siano potrebbero cercarle un po' in giro poi si svuoteranno i liquidi corporei e si metterà il fluido di imbalsamazione il problema è che i giochi di ombre sono bellissimi ma qui c'è un bisturi qui c'è no la forbice qua sotto forse si forse sono questi si infatti allora adesso andiamo a mettere gli eye cap quindi mettiamo eye caps ok li abbiamo messi perfetto dobbiamo ora inserire il fluido glutaraldeide metanolo glutaraldeide metanolo quindi dobbiamo capire dov'è no questa è la candeggina formaldeide ci sono un sacco di cose che hanno messi in modo diverso infatti non so dove sono perché mi li ha aiutati in giro metanolo lo mettiamo dopo sul classico gioco dove ti dicono vai in cantina a prendere qualcosa a prendere la legna e tu non ci vuoi andare come da piccoli perché c'è qualcosa ma a differenza di quando eravamo piccoli probabilmente di qualcosa c'è davvero comunque quello che dobbiamo fare ora io sto ignorando bellamente tutte le istruzioni riguardo al demone perché voglio farvi vedere la meccanica base del gioco in realtà dovremmo fare attenzione anche a questo no eccola qua voluta l'aldeide apriamo qui lo mettiamo qua poi il metanolo lo mettiamo qua poi c'è umectant che è questo no formaldeide umectant il cacchio era questo metti giù e poi formaldeide ok messo tutto dobbiamo fare un'incisione incisione con il bistui con il bistui incisione con il bistui e prendere le forze che sono queste no eccole qua ok almeno credo ah no 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 dobbiamo mixare prima quindi accendiamo le abbiamo messi tutti no ah reagente in the old cabinet ah la reagente non c'era in the old cabinet che è questo non si apre processo di processione night shift system no cavoli nel vecchio l'ammarietto non c'è questo ok qua sarà tutto tutto da leggere assolutamente perché allora dice nel vecchio armadio c'è la reagente che sia questo l'uteraldeide no flex bag no reagente qual è questo no no ma secondo me nel vecchio è questo ma non si apre ah devo usare la chiave old key ok infatti un'altra cosa qui qui c'è tutt'altro c'è qualcosa per bandire il demone o o simili quindi mettiamo anche l'ultimo ma io voglio solo ok accendi no credo adesso possiamo mettere fare quello che dobbiamo fare che è veramente bruttissimo perché qua usiamo queste ok fatto questo clamp tubing ok dobbiamo prendere i tubi questo no questo si fa dopo questo si fa dopo beh questo fattemelo prendere che magari forsept to clamp ah devo accendere adesso immagino no manca qualcosa manca qualcosa che non ricordo cosa adesso me lo cerco un attimo si si per la perché avevo dimenticato che c'è che c'è il tubo quindi adesso butto un oggetto per terra butto questa sacca qui che mi servirà più avanti e mi prendo il tubo che manca e ora vi mostro il motivo per cui il gioco è abbastanza forte e adesso andiamo ad avviare la macchina e poi metteremo all'interno il adesso vorrei capire perché si è spenta la luce credo possa essere uno dei giochi a parte la tematica più terrificanti che l'abbia provato perché comunque c'è un bel corridore lungo lì dietro e uno lì davanti insomma non sarà subito fatto il jumpscare arriva da un momento tra l'altro potrebbe anche apparire dovrebbe aver finito no credo ok rimuoviamo tutto e chiudiamo l'incisione perfetto adesso riempi una riserva bag che ho già fatto perché ce l'ho qui e dobbiamo metterla al centro del petto con questo questo qui è un'altra cosa di quelle pessime mettiamo un fluido di conservazione perfetto qua adesso abbiamo fatto mix cleaner bottom tank cleaner e mettilo nel ok praticamente ma 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 vorrei farmi una piccola foto del 1970 l'anno di arrivo della casa della morte un brano il suo creatore e qua c'è ok vabbè noi non ci facciamo spaventare dobbiamo riempire la la tanica dobbiamo chiusare questa porta e qua puliamo la macchina dopodiché dobbiamo dobbiamo mettere la moisture la 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 cremina per pulire la pelle e rimettere il corpo di là e io ho il vago sospetto che qualcosa qui succederà perché tra l'altro in tutto questo non abbiamo seguito minimamente quel discorso della possessione del demone del dover mettere seguire quelle cassette per sopravvivere e mandare via il demone quindi questa è un'altra natura del gioco ma e qua l'abbiamo chiuso e ora dovremmo passare a un altro quindi andare a farne un altro e abbiamo un altro corpo in questo caso è Josh io c'ho sempre paura e qua e qua ricomincia ovviamente questa sarà una lunghissima notte tra l'altro quello che non vi ho fatto vedere cioè ci sono passato davanti ma non ve l'ho fatto vedere aprendo quell'armadio lì quello che abbiamo visto prima dentro c'è questa sorta di puzzle da risolvere e inoltre qua sotto l'armadietto ho trovato anche questo che è un pannello a codice per aprire un qualcosa so che tanti lo stanno portando su Twitch il gioco e è fatto di page and scare rispetto a tanti altri horror che ho portato ultimamente io sento rumori vabbè comunque gioco piuttosto lo definirei controverso perché ha un'ottima atmosfera tratta una tematica un po' delicata la preparazione dei corpi insomma poi vabbè c'è anche il forno qua quindi dovremmo anche eliminare quello col demone probabilmente ci sono poi le sacche fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao 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 Grazie a tutti.